Beh ragazzi siamo qui su Stayed on Social Ehm... E' tutto qua? E oggi... Vabbè oggi avremo un raduno al Duomo di Rimini Insieme a questo qua E anche il nostro caro amico il Brescio E' un studio speciale Veramente lui non fa parte però E' importante E' importante E' importante E qui ragazzi alle 16 Dobbiamo essere in Duomo Solo che il problema è che Siamo in ritardo No ma che cavolo E dobbiamo farcela tutto a piedi Fino al Duomo Siamo in stazione Più o meno Però se è bello figo tu guarda Quanti bello figo ci sono raga Quindi ragazzi niente Vi lasciamo dopo Allora ragazzi siamo qui Siamo... Allora purtroppo Ci dobbiamo nascondere Perché molti di voi ci stanno inseguendo E noi dobbiamo scappare Quindi Quindi ragazzi Scusate se scappiamo ma E dobbiamo fare una cosa Quindi alle 16 Tutti in Duomo Ah vabbè Sarà uscito il video dopo Vabbè Bello Tra poco parte C'è la gente che riguarda Sic Lo sai che mi metto il copio Quello bastardo piccolo spezza cuore La tua tipa Allora Let me under your skin Oh, there it goes The stance you mentioned over for Why do I always spill? I feel it coming out my throat Guess I better wash my mouth out with soap God, I wish I never spoke Now I gotta wash my mouth out with soap I feel it coming out my throat Guess I better wash my mouth out with soap God, I wish I never spoke Now I gotta wash my mouth out with soap God, I wish I never spoke